a stare gabbia ce la fa solo però per dare la possibilità a totale di passare ancora una volta qui siamo due contro uno sul calcio d'angolo fanno lo schema entrano dentro prima uscito benissimo magnan però non si può fare tutto pronto per il corner parte di ma col sinistro arriva al cross in mezzo francesco 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 tutto solo sulla linea di porta germi deve solo spingere la dentro dopo la deviazione di pavar hitter in vantaggio al minuto 18 francesco a germi dai ragazzi andiamo con l'onda si lancio di bastoni per attura ma spalla la porta limite dell'area contro tomori lo punta prova a servire mi chitaria ancora turam posizione di tiro tira tiro di turan marcus turan marcus turan destro sul primo palla da limite dell'area non ci arriva ma ieri 2 a 0 per l'inter e andiamo con l'onda dare gabbia ce la fa solo però per dare la possibilità a totale marisa di crescere sulla linea di passaggio sia molto bene l'area ancora una volta qui siamo due contro uno sul calcio d'angolo fanno lo schema entrano dentro il primo è uscito benissimo magnan però non si può fare tutto pronto per il corner parte di ma col sinistro arriva al cross in mezzo pavar la e poi a germi a germi francesco a germi francesco a germi 1 a 0 per l'inter tutto solo sulla linea di porto germi deve solo spingere la dentro dopo la deviazione di pavar pittura in vantaggio al minuto 18 Francesco a germi dai ragazzi dai 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 andiamo con l'onda l'inter in vantaggio andiamo con l'onda una cosa incompensibile io mi informo con la tecnologia mi piace perché qui si fa domande e chi si fa ma invece il fuorigioco fuorigioco comunque digitalizzando le immagini quindi riesce comunque andare a a coprire parte l'intera attenzione da cercare l'autaro la deviazione turan limite l'area di vigore turan entra in area della sinistra viene seguito da d'lique morde le caviglie ancora turan lato corto dell'area per di marco posizione di cross ma si trova di fronte musa e allora deve arretrare il gioco ancora barella cialanoglu scambio di nuve minuto 67 bastoni spalla la porta ancora per barella che fa una finta prova ad andare via rischia un esterno per bastoni sul pressing poi bastoni colpisce male la palla ma in qualche modo riesce a servire cialanoglu per fortuna non se ne accorge girù che poteva rubare palla ancora cialanoglu linea mediana posizione centrale aspetta l'inserimento di qualcuno poi si accorge che forse non c'è spazio allora pallone indietro per bastoni a sua volta l'indietro per pavani che è l'ultimo della difesa dell'inter ancora spazio per barella anzi mi chissà con il quarti centrale allarga tutto sulla destra per darmian ancora darmian sta succedendo la stessa cosa di Roma arriva il sessantesimo i giocatori sono già fermi che hanno dato più finita la partita ma sembra veramente che abbiate completamente mollato uguale a Roma fino alla stessa cosa lui che ha fatto qualche è stato Adlin secondo lei è poco più che vaga da solo all'altro più finita la partita no ma sembra veramente che abbiate completamente mollato uguale a Roma fino alla stessa cosa lui che ha fatto qualche è stato Adlin secondo lei è poco più che vaga da solo all'altro quarto meno meno cioè l'inter sta facendo giro il pallone serenamente senza problemi e il Milan sta facendo sta perciando il porto Tiziano ma Giro in giro quanto incide quanto ha inciso la manovra ma scusa ma prima invece se non arrivava abbiamo avuto prima giocato bene non ho detto ma abbiamo giocato bene abbiamo avuto delle occasioni si adesso è il Cicuese e Musa Musa sta uscendo Musa ce ne diciamo in pubblicità in pubblicità tra un minuto io sono mette vinto con i pugni smanaccia ma ancora Milan Oca Ocafor prova a recuperare il pallone seguito da Carlos Augusto Ocafor all'indietro ancora per Isma Isma larga da Teo tutto solo Teo sulla sinistra la bella la bella la bella la bella la bella la bella ciala di destra in cuba il corner dai ciala caccia la gol per il Milan dai Milan caccia la gol per il Milan finalmente ti hai fatto sentire finalmente anche tu c'è qualche sopro come un disperato non ci credi neanche tu non ci credi neanche tu chiudi 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 ci sei colore per la cosa è colore 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 gol 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 stiamo arrivando dai fitto Mori la messa dai Mila andiamo con l'onda Mori quando per l'Inter con la Somm era passa adesso il primo minuto ma ne mancano quattro ancora rimesso dal fondo te ne mancano quattro Filippo va 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 rimesso dal fondo la palla alta Carlos Augusto non riesce ad arrivare in testa Calabria ciugueze ciugue la nostra metà campo prova a cercare centrale in anticipo ma ancora Milano ancora fitto Mori che allarga per Teo 91 e 20 dai Teo in verticale per Capitano America Adunfri brava dalla sinistra la palla dentro fuori te ne vai in testa e poi Lautaro finta subisce pallo cartellino giallo per Tomori e punizione per l'Inter che può respirare mamma mia tre minuti e mezzo alla fine tre minuti e mezzo alla fine bravo Lautaro qua in una partita non fantastica qua fa una finta di corpo su Tomori guadagna la possibilità di andare sulla palla Tomori completamente fuori tempo l'unica cosa che può fare è bloccarlo abbracciarlo e l'Inter guadagna una punizione che ci fa respirare un pochino punizione per l'Inter mancano tre minuti alla fine della partita tiziano tre minuti alla fine tiziano tre minuti alla fine c'è ancora qualche piccola una fiammella piccola per pareggiarla io ci spero i miracoli ogni tanto anche i calcistici ogni tanto capitano vediamo vediamo mancano meno di tre minuti prova a ripartire adesso l'Inter Dunfri ma recupera bene Frattesi poi trattenuto da Leao calcio e arriva anche Teo Hernández accende la riesta gamma gamma mani in faccia tra Teo e Dunfri che brutto spettacolo che brutto spettacolo mani in faccia tra Teo e Dunfri vedrai che saranno espulsi tutti e due sono arrivati a Musuduro con la cattiva ma i due non si possono vedere lo sappiamo già io ho già visto però voglio vederlo meglio adesso lo riproporremo voglio vedere com'è iniziata questa cosa perché qui c'è un fallo tranquillo al centrocampo per l'Inter niente di che e poi si accendono queste cose qua solo che tra Teo e Dunfri ci sono vecchie storie no? no è andato avanti tanto perché una volta che ti prendi lui ha provato secondo me se avessero no no però qui parte qui bisogna capire come inizia perché poi è ovvio che una volta che inizia succede quello che succede ma perché inizia adesso lo ripropongono vediamo perché poi si è aperta veramente tipo una mischia reggistica erano inventi praticamente che si stavano anche le parole che sono state dette arriva il 96esimo minimo quando si è avvicinato se non era il 96esimo Lautaro calcio di punizione per lì no no nulla però ha messo il fischietto in bocca e poi invece ha deciso per la rimessa dal fondo 94 minuti 30 secondi lo dobbiamo unire qua oppure si può fare questa cosa non si può fare se è una simulazione la prossima partita il Milan senza Tomori e senza Teo ed è giusto una squadretta è contro la Juve attenzione ancora Raffaele occhio Rafa dalla sinistra se ne va benissimo Rafa Rafa la sinistra la palla a destra una delle ultime occasioni tutti su proviamoci fino all'ultimo secondo calma dibattimo bene calcio d'angolo per il Milan tutti dentro tutti in area di rigore attenzione c'è un saltatore in meno per noi perché non c'è c'è anche Mignani anche Mignani in area di rigore Isma mettila bene ti prego la palla dentro per Calabria che la lascia lì la palla anche parla attenzione che riparte Mkhitaryan la porta è vuota Mkhitaryan subisce fallo calcio di punizione dai ragazzi dai 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 dovrebbero mancare 50 secondi alla fine della partita dovrebbero mancare 50 secondi perché non so quanto da questo intervento è vero che siamo a palla è successo a tutto la porta completamente sguarnita qua secondo me un cartino giallo per potenzializzare l'attacco c'era ci poteva stare ragione Denis perché il portiere non c'era quindi questo fa aumentare tutto anche la distanza ma se l'ha fatto non era neanche fallo 95 minuti 40 secondi 20 secondi a termine lancio almeno credo lancio lungo di Sommer a cercare ancora Turam rimette il Milan a metà campo poi c'è un scontro a metà campo attenzione che riparte il Milan ripartire Ocafor porta centrale oltre non sbagliate oltre all'alte sulla sinistra intercalcione ancora calcio d'alte potrebbe essere più pericoloso ma basta ancora erano partiti molto bene Ocafor Giroud e Leao l'ultimo pallone era per Rafa c'è anche Mignan ancora Mignan che chiede aspetta fammi salire anche a Metti prego mettila bene Ciucu ti prego mettila bene Ciucu per favore mettila bene Ciucu per favore Ciucu mettila bene per favore Ciucu mettila bene ancora ancora la vena che scende ancora sì però ragazzi veramente così l'altro giocatore dell'Eliza con le magna terre Calabria che spintona tutti Calabria rischia il rosso pure lui attenzione Calabria contro Mkhitarya vediamo ah gliela data brutta ragazzi però ma che è sta roba che la dà espulso ma cos'è sta roba ma ragazzi ma stai zitto almeno ma stai via 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 ma è questo che mi fa incazzare ma pure lo schifato ma io non dico niente guarda si vede ma come fai come fai ma io non so c'è il modo di perdere ma io non so ma vergogna si ripartirà con il calcio d'angolo del Milan comunque sì perché io non espulsione di Calabria giusta vergogna niente da dire pazzesco l'arbre dice calma state calmi pazzesco insomma non è un bel non si può chiudere così poi è veramente vergognoso indecente calcio d'angolo per il Milan Benasser diciamo le due squadre sono rimaste nove contro dieci vediamo se l'ultima azione Benasser la mette dentro brutto calcio Benassone 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 Campioni d'Italia bravi bravi ragazzi bravi 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 non ci speravo assolutamente complimenti a tutti i campioni che hanno vinto facciamo i complimenti facciamo assolutamente i complimenti ci scusiamo anche perché non si perde così vergogna e quindi anche se magari un po' di comprensione da parte dei giocatori dell'Inter alla fine si poteva essere però insomma voglio ringraziare Mario belle parole grazie mille complimenti hai ragione hai ragione complimenti a Filippone e a Beppe Vigani complimenti